Tu pensi davvero che mettere me dietro le sbarre cambierà qualcosa per le strade? I tossici continueranno a farsi, ruperanno per farsi e poi moriranno. Mettermi dentro o lasciarmi fuori non cambierà niente. E' così che stanno le cose. Stanno proprio così e che abbiamo ricci. Ho una fila di persone che vuole testimoniare il contro di te, che parte dalla porta e gira intorno al palazzo. Ma dai, tu te pare... La vita l'hai rovinata a tanti, Frank. Ho la famiglia mafiosa Mazzano, te la ricordi? Le hai fatto chiudere la bottiglia. No, senti, non c'entro niente con i Mazzano. I Mazzano non c'entrano niente con me. Non c'entrano a come con te. Che dico? Lo sai perché? Perché? Perché a parte il fatto che ti odiano personalmente, odiano ciò che rappresenti. Io non rappresento altro che Frank Lucas. Sicuro? Un uomo d'affari nero del tuo calibro? Rappresenti il progresso. Il genere di progresso per cui loro perderanno un mare di soldi. Sai che ti dico, puoi fare quello che ti pare. E non cambia niente per me se domani ti ritrovi con la testa sbabolata, capito che voglio dire? Ehi Frank, mettiti in fila. Anche la mia fa il giro del palazzo.